A fine mese il BIM pubblicherà un bando per chi vorrà installare nelle aree interne i pannelli fotovoltaici. Sì, è un'iniziativa innovativa per il consorzio anche perché non si è mai interfacciato direttamente con le famiglie dell'entroterra. Per cui volevamo fare questa iniziativa che gravita soprattutto nei comuni della montagna, anche perché le nostre risorse sono prettamente per loro e quindi nello specifico noi daremo dei contributi a fondo perduto a quelle famiglie che vorranno installare pannelli, impianti fotovoltaici. Chiunque può rispondere al bando o bisogna avere delle caratteristiche particolari? Sì, ovviamente ci saranno le caratteristiche che a fine mese pubblicheremo sul bando, ma poi oltre a questa avremo anche altre due iniziative, cioè quella dell'acquisto delle pompe di calore o comunque delle stufa a biomassa e anche quella per chi vorrà acquistare degli elettrodomesti di classe A++. Insomma, energia alternativa anche nelle aree interne? Energia alternativa ma soprattutto per la spesa delle famiglie che magari vorranno abbassare le loro bollette è una cosa importante e il Consorzio BIM va soprattutto a tutelare quelle persone che sono svantaggiate e che abitano nelle aree interne.